Ciao a tutti ragazzi benvenuti nel mio canale io sono Eri Piscogli e oggi siamo ovviamente in un nuovo video qui come oggi c'è anche ovviamente come sempre in ogni video siamo in 34 Pisconti saluti in tutti in alcuni in questo video vi spiegherò ovviamente in un video che è tipo da una settimana due settimane non si sa non mi ricordo più quando l'ha fatto uscire il suo video nel suo canale però abbiamo raggiunto nel suo video i set in piace e quindi io direi di farvi spiegare come salire su youtube per il vostro canale ok per prima cosa ovviamente prima di fare quella cosa lì dovete ovviamente ovviamente prima di fare quella cosa lì dovete ovviamente avere un canale e iniziare a fare qualche video perché se avete un canale che non ha un canale lasciamo tanto va bene lo stesso si sente lo stesso l'audio sperando comunque sto dicendo voi dovreste avere un canale con almeno un po di video perché se ovviamente fate quella cosa lì del ricambio scritto comunque sto dicendo prima di fare quella quella tecnica lì quel consiglio che io vi do ovviamente nel vostro canale dovreste avere qualche video e ovviamente se non avete i video cioè uno si iscrivete per niente perché non avete video quindi che cazzo si iscrivete a fare cioè io non so nel mio canale c'ho un paio di video dirette e da per quello che faccio quella cosa lì anche io come avete visto da un bel po di tempo fa sempre forse c'ho la foto qua ve la metto non so qui se ci sta se sarà se c'è spazio ero tipo a 32 iscritti 64 iscritti avete visto ora quanto siamo avete visto ecco ovviamente ovviamente nella realtà che stiamo facendo ora il video non si vedrà però nel video voi lo vedrete davvero vedete anche nel canale che ho 183 iscritti comunque ok adesso facciamo proprio la spiegazione e vi vi dico come si fa allora prima di tutto dovete cercare su youtube live tipo di fornite live iscritto ricambio ecco se scrivete iscritto ricambio vi cercherà un bel paio di stavo dicendo eventi però non c'entrava un cazzo eventi comunque mamma che cazzo stavo dicendo vaffanculo tengo giù la mascherina perché regà non abbiamo il covid ok allora stavo dicendo dovete cercare live iscritto ricambio e quando l'avete trovato andate ovviamente non è che se cercate lì vi dice hai già nuovi iscritti no dovete entrare nella live e poi chiedere il consiglio che vi do è questo quando entrate chiedete subito qualcuno vuole fare iscritto ricambio ecco poi dopo se uno vi dirà sì sì ok va benissimo o se no uno vi dice vuoi fare 10 per 10 3 per 10 3 per 3 ho sbagliato tutto vuol dire tipo sono gli account ecco quindi voi dovete iscrivervi tipo con non so 10 account e lui si prendete 10 iscritti però ve lo sconsiglio di farlo perché tipo anche io un giorno uno si era iscritto con le 10 account sto dicendo vi sconsiglio di fare una cosa del genere di fare 10 per 10 perché poi dopo youtube se ho capito bene o se no il tizio che si è iscritto si disiscriverà e poi dopo sarete fottuti quindi io ve lo sconsiglio di farlo fatelo con un solo account ok poi dopo ovviamente vi consiglio anche di cercare le live la sera perché la mattina e il pomeriggio ovviamente le live non ci sono quindi io vi consiglio di farlo la sera ok io rega direi che questo video qua posso anche concluderlo qui io vi ho già spiegato tutto se non avete capito molto bene in descrizione vi lascio ovviamente tutte tutti i suggerimenti così almeno anche voi potete salire su youtube ecco questo ovviamente il mio consiglio personale ma anche altri youtuber tipo samozor 4 altri miei amici che non voglio nominare però c'è uno che è un coglione e lasciamo perdere se no dopo avete capito ecco in descrizione vi lascio tutti i consigli per questa cosa qui se vi è stato di gradimento questo video e vi è stato utile ovviamente lasciate un mi piace sotto questo video lo condividete con tutti quanti i vostri amici iscrivetevi anche al canale ovviamente anche attivate la campanellina per soggiornati sui prossimi video di questo canale io direi che vi saluto e noi ci sentiamo in un prossimo video bella riga iscrivetevi al canale